Assessore Cracolici, oggi a Campobello di Mazzara per la questione dei produttori di olive, della Nocellara, c'è la questione dell'olio e c'è la questione delle olive anche per quanto riguarda questi sequestri fatti dai NAS in tutta Italia. Qual è il motivo di questo incontro? Il motivo di questo incontro è intanto ascoltare le problematiche e vedere di trovare assieme le possibili soluzioni per rimuovere eventuali difficoltà a promuovere uno dei prodotti importanti per questo territorio. L'oliva da mensa costituisce un valore aggiunto straordinario per questa area della Sicilia. Quindi l'assessorato pone un orecchio attento alle problematiche e vediamo di studiare tutte le soluzioni possibili. Per quanto riguarda l'olio tunisino si è parlato tanto ma ormai poco si può fare. Assessore, cosa pensate di fare per valorizzare l'olio siciliano? Stiamo facendo, sta per andare in porto e non era scontato, è un lavoro che abbiamo fatto in questi mesi anche in silenzio. Riuscire a ottenere l'IGP Olio Sicilia, questo darà un marchio di qualità al nostro prodotto, obbligherà in qualche modo i nostri produttori a commercializzare imbottigliando l'olio siciliano. Siamo sicuri che l'olio col marchio Sicilia ha un valore aggiunto nei mercati nazionali e internazionali. Quindi noi la competizione la facciamo sulla qualità e su quel terreno credo che la Sicilia oggi ha solo davanti a sé soltanto occasioni per vincere le sfide della competizione. Se pensiamo di competere su un prodotto ordinario lì avremo maggiore difficoltà.